Cari figli, oggi desidero invitarvi tutti a vivere nell'anno nuovo. Tutti i messaggi che vi do. Cari figli, sapete che sono restata a lungo a causa vostra per potervi insegnare come muovere i vostri passi sulla via della santità. Perciò cari figli, pregate senza sosta e vivete tutti i messaggi che vi do. Perché io faccio questo con grande amore verso Dio e verso di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie per aver guardato il video.